Il primo prodotto che vi mostro, che è veramente perfetto per questo periodo, è un balsamo labbra Che costa meno di 2 euro è il John Masters Organics Che è alla menta, però c'è anche alla vaniglia, con una profumazione neutra Ed è un balsamo labbra spettacolare Un balsamo labbra che veramente idrata le labbra È naturale, quindi non con delle schifezze Dura tantissimo, nonostante sembri così piccolo Ed è uno dei migliori mai provato Se avete le labbra molto molto secche ve lo straconsiglio Io questo l'ho utilizzato anche l'anno scorso, quando facevo la cura per l'acne E avevo le labbra distrutte e mi aiutava tantissimo Appena sotto al Carmex Solo che il Carmex in quel momento vi fa sembrare che le labbra sono idratate Ma in realtà non è vero, quindi è solo una cosa fittizia Mentre invece questo viene comunque assorbito dalle labbra E quindi veramente idrata le labbra E mi piace tantissimo questo E quindi non è vero, quindi non è vero, quindi non è vero